Una bella giornata di sole ci accoglie nell'alpeggio di Tornion dove l'AREV, l'associazione regionale allevatori valdostani, hanno organizzato la prima di diverse tappe di Alpajouvert. Con noi c'è il presidente dell'AREV, Alpajouvert, cos'è Alpajouvert e quali sono le finalità? Alpajouvert è una festa per gli allevatori, è una festa che serve per fare conoscere quello che facciamo nei nostri alpeggi, i prodotti di eccellenza e serve per presentarsi alla gente del posto e ai turisti che vogliono venirci a trovare. Cosa sono i prodotti del peggio? Quali sono? In primi sicuramente la fontina, poi ci sono altri prodotti che vengono consumati sul posto, offriamo polenta, spezzatino, vari tipi di tome, tutti i prodotti del territorio. Ecco, soprattutto io vorrei sottolineare un pochino anche la carne, la carne valdostana che state facendo già da diversi anni una bella promozione, diciamo che abbiamo visto che sta andando a ruba, tra virgolette. Sì, 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 il progetto della carne valdostana sta andando molto bene e in primi siamo noi nell'area che spingiamo sulla carne valdostana, è il prodotto su cui noi abbiamo più competenza per la promozione. Gli alpeggi, gli alpeggi sono praticamente un fiore all'occhiello per la produzione della fontina. Cosa ha di diverso dalla fontina, diciamo, della stalla di pianura? È prodotta con le erbe di montagna, la varietà dei fiori, delle varie erbe che ci sono in montagna danno alla fontina un gusto particolare, cioè è la fontina d'eccellenza, è la fontina migliore che si può produrre. Possiamo dire la fontina delle fontine, però per arrivare a fare la fontina, andando facendo un passo lì indietro, prima bisogna avere un casaro che sa farla decisamente bene e partire da una materia prima decisamente ottima che sarebbe questo latte prodotto dalle mucche che mangiano questi fiori freschi di alpeggio. Certo, sicuramente, anche il latte negli ultimi vent'anni è migliorato tantissimo come qualità dal punto di vista sanitario. Una battuta così velocissima sul latte, il latte è un po' in tutta Italia, un po' in tutta Europa, anche in Francia abbiamo visto agricoltori che si sono un pochino mossi per cercare di far capire che il latte deve costare qualcosa in più. La produzione del latte è decisamente al lumicino come guadagno, soprattutto per quanto riguarda il latte dal peggio. Cosa si può fare per far capire che è un'eccellenza? È come il vino, il vino se è buono bisogna pagare il giusto, ma anche il latte, perché non questo latte? Di conseguenza ci sarebbe anche un riporto sul costo della fontina e un riporto sulle entrate per tutti gli allevatori e gli agricoltori. Certo, nell'ultimo periodo soprattutto i costi sono lievitati in maniera esponenziale, parliamo dell'energia, parliamo dei cereali, tutto quello che serve per produrre. È indubbio che bisogna aumentare il prezzo del latte, adesso la strategia non possiamo trovarla noi da soli perché non compete in modo particolare a noi, noi continuiamo a insistere che il latte va pagato di più. Comunque oggi diciamo che è una bella festa, godiamoci la festa e domani seduti al tavolino per cercare di aumentare il prezzo del latte può andare bene? Sicuramente, la strategia è quella, oggi facciamo festa e domani pensiamo. Assessore, oggi è una giornata decisamente interessante, diciamo che numerose sono le manifestazioni che organizzate durante l'arco dell'estate, però al Pagio Verde ha un senso decisamente interessante, a far conoscere gli alpeggi, ma non solo ai turisti, ma anche ai valligiani che magari non hanno sempre l'occasione di… quindi è questo, praticamente il cuore e lo spirito degli elevatori, un po' il cuore e lo spirito anche della Valle d'Aosta. Sì, al Pagio Verde segna un po' l'avvio di quello che è la stagione estiva della nostra regione, un momento di riscoperta del territorio per magari i turisti o coloro che arrivano da più lontano e un grande momento di aggregazione anche per i nostri valligiani, quindi che dall'Alta Valle si spostano e dalla Bassa Valle per veramente un momento di incontro in un periodo sicuramente non facile, soprattutto per il settore agricolo, però bisogna guardare avanti e con speranza e con voglia veramente di fare, di fare sempre meglio. Ultimamente molti sono i giovani che si sono avvicinati a questo mondo, chi ha, diciamo, arredditato dalla famiglia, chi si è messo proprio in proprio da poco tempo per portare avanti queste tradizioni, ma anche perché a questo punto possiamo dire che c'è uno spiraglio anche per quanto riguarda la rimunerazione di questo tipo di lavoro. Chiaro che il fatto che i giovani vogliano mettersi in gioco e a volte continuare l'attività dei genitori o a volte proprio partire quasi da zero è un bel messaggio per il futuro. Dovere della politica e dell'amministrazione è quello di fare il possibile per riuscire a migliorare quello che è la rimunerazione, il valore del prodotto, ma soprattutto anche l'aspetto qualitativo della vita perché dobbiamo veramente guardare alle prossime generazioni e questa è una vita difficile, una vita dura e su quello bisogna veramente fare uno sforzo anche a livello di politica e cercare le migliori soluzioni. Siamo con Luigi, Luigi Mus che è il proprietario, il conduttore dell'Alpeggio con tutta la famiglia, diciamo già da qualche generazione. Innanzitutto grazie dell'ospitalità è proprio bello vedervi e soprattutto ci fa riflettere, ci fa riflettere del duro lavoro che fate in Alpeggio, 100 giorni veramente diciamo stressanti. Raccontaci un pochino, tu non fai la fontina però la conferisci al caseificio? Sì, noi abbiamo 90 bovine da latte e qua a Torgnon conferiamo il latte al caseificio Valle del Cervino e niente, il lavoro adesso come adesso è sempre stato un lavoro duro, comunque impegnativo, di passione perché se uno non ha la passione non lo fa e questo vorrei sottolinearlo. Certo al giorno d'oggi andare avanti è abbastanza dura, poi con gli ultimi due anni adesso soprattutto con il carovita, l'aumento di tutte le materie prime e tutto, ma andare avanti in un'azienda è abbastanza, è molto impegnativo. Il lavoro non ci manca, ringrazio la mia famiglia che mi aiuta, mio papà, mia mamma, la mia compagna Giulia, futura moglie. L'hai svegliato adesso, adesso lo sa lei? Sì, sì, no, no, lo sa, lo sa. E niente, sono contento, sono contento della vita che faccio perché se no, ovvio, sono nato qui e quindi ho ereditato da papà, prima ancora dal nonno e quindi è stata tutta una generazione di questo lavoro, di questa vita qui. E niente, speriamo, spero sempre, dico sempre tutti gli anni, speriamo che migliori, che adesso grosse possibilità di migliorare, di vedute, che migliori il lavoro, il guadagno, non vedo, però andiamo avanti, siamo una famiglia, ci aiutiamo l'uno o l'altro, poi c'è anche mio fratello, le mie sorelle, tutti che ci aiutiamo a vicenda, quindi non siamo da soli, per fortuna, siamo una famiglia abbastanza unita. E niente, sono... Diciamo che comunque sono decenni, non anni, sono decenni che si dice, speriamo che il prossimo anno ha da meglio di questo. Però voi, diciamo che il vostro lavoro è sempre questo, conferite il latte, quindi la variante è vendere il latte un po' più a buon prezzo, cioè non proprio sottovalutato così, sottostimato, perché la vostra fonte di reddito è il latte, quindi il latte è pagato veramente molto poco, quindi dobbiamo capire che bisogna pagare più il latte, è tutto praticamente un cane che si morda la coda, il latte viene pagato di più, ho pagato di più, voi state meglio, la fontina viene venduta al prezzo giusto che deve essere venduta, perché la fontina è un disciplinare ferrio, l'unica DOP a livello europeo che è un disciplinare del genere, quindi bisogna semplicemente far capire che poi il latte che si fa in alpeggio rispetto al latte che si fa in stalla in pianura è tutta un'altra cosa, vero, quindi è da lì che bisogna cominciare a far capire dove cercare di portare, migliorare diciamo le condizioni di vista vostra e la vostra remunerazione. Sì, dispiace ancora che c'è ancora qualcuno che fa finta di niente su questo, perché comunque il problema c'è, è enorme e da anni, come giustamente hai detto, che questo prezzo della fontina deve aumentare, perché noi veramente adesso, come adesso, siamo veramente, io penso, io parlo per me, ma direi in generale tutti, siamo veramente tutti allo stremo, chi fa questo lavoro, che comunque ha l'alpeggio, che tutto ha la manodopera, deve avere dei dipendenti, deve avere tutta una serie di cose che comunque ti portano a, che devi spendere, devi, comunque è un carro vita, capisci? Sì, quindi il guadagno dell'altra adesso, come adesso, pagato così, è veramente poco, noi non ci stiamo dentro, ecco, andiamo avanti, come dico, perché sia la passione, sia tutto, ma, ripeto, c'è ancora qualcuno che effettivamente ci dà, che dovrebbe comunque appoggiarci, ma ci dà contro e questo ci fa veramente male, ma speriamo che le cose cambiano e niente, la Fontina deve veramente, deve veramente prendere un piede diverso da quello che è adesso, a livello economico, a livello di marketing, a livello estero, perché comunque io ho la compagna della Sardegna, piccola tra parentesi, non sanno ancora cosa è la Fontina e questo è veramente un dispiacere, ho avuto la fortuna di andare giù in Sardegna tre giorni e veramente non sanno ancora cosa è la, questo fa veramente male al cuore che in Italia, noi la Val d'Aosta, come giustamente hai detto prima, con disciplinare così, con questo formaggio non sia conosciuto ancora veramente, questo fa male, però speriamo, come dico sempre, che le cose cambiano, pian piano andiamo avanti e voilà. Non ti faccio né in bocca al lupo né in culo alla balena, diciamo che siamo dalla tua parte, siamo tutti dalla vostra parte, vi sosteniamo per quello che possiamo e finiamo con un grazie, grazie mille per quello che fate, per quello che ci portate ancora sulle nostre tavole, perché senza di voi saremo alla plastica decisamente da mangiare, grazie ancora. Grazie mille, arrivederci. Ecco, con Lidia invece andiamo a parlare dei prodotti, prodotti che si ottengono da questo buonissimo latte che viene prodotto qui in Alpeggio. Allora, i prodotti ovviamente, il principe è la fontina, vero? È la fontina, è la fontina il principe della cosa, insomma, non so come spiegare, della Valle d'Aosta è la fontina, ecco. Poi tanti altri prodotti, ma soprattutto la fontina, allora, che particolarità deve avere questa fontina? C'è un disciplinare che è decisamente molto ferreo, ma poi però queste qua di Alpeggio hanno un particolare, un altro gusto. Sì, ha veramente un altro gusto, perché le mandrie salgono in montagna e mangiano, tutte le primizie, diciamo, le violette, tutta l'erba più buona e la fontina in questo caso è veramente molto più buona che quella delle cooperative di sotto, di pianura, diciamo così. Di pianura, di pianura. È ovvio che se l'animale mangia bene, fa un buon latte e viene fuori anche un buon prodotto, che però bisogna essere capace a fare. Sì, ecco, per farla noi l'abbiamo fatta per tanti anni. La fontina ci va un po' di, non so come spiegare, di pazienza, perché bisogna mettere il quaglio e poi si aspetta e poi dopo un momento si accende il fuoco e poi si gira un 48-50 minuti e poi scende in fondo, poi si prende con la benda, si tira fuori e si mette dentro dei cerchi che poi viene la fontina rotonda, diciamo. Tutto un disciplinare molto ferrio, che comunque poi una cosa che molto, che voi, le mucche vengono munte due volte al giorno e la fontina deve essere fatta entro un paio d'ore, quindi due volte al giorno fate anche la fontina. Sì, due volte al giorno si fa la fontina. Le mucche vengono munte alle due e mezza, alle tre del mattino, alle sei mettono il quaglio e verso le nove è finita. È pronta la prima. Ecco, è pronta la prima. Altri prodotti che vediamo qua ce li descrivi? Sì, è il burro. Il burro praticamente, facendo la fontina, non viene fatto di panna, viene fatto del latticino che viene dopo la fontina. Si passa a una scramatrice e viene la panna e viene il burro, che diciamo che è buonissimo, perché per fare il burro alla panna bisogna fare la toma. Bisogna fare la toma. Poi bisogna anche fare una scelta. Se si fa la fontina si fa un certo tipo di altri prodotti, altrimenti si fa decisamente. Questo qua che è burro colato cos'è? Questo lo faccio io. Del burro metto una pentola che viene cotto, diciamo, ed è molto più buono, fa meno male. È particolare per fare la polenta concia, per fare, non so come spiegare, tutto il mangiare. Si usa un po' come condimento. Sì, come condimento e non fa male. Che questo è più anche grasso. Un po' più di colesterolo ce l'ha. Ecco, c'è. Invece quello è proprio particolare. E poi ci sono anche le tombe. Tome sono buone, quelle fresche, quelle stagionate. Avete un sacco, un sacco di cose. L'ultima domanda è questo. Voi lo fate con il cuore, questo lavoro. Vale ancora la pena? Perché la sta fontina, porca miseria, costa troppo poco. Io gli spiego. Noi siamo dal 70 che siamo qua. Io mi sono sposata a vent'anni e dal 70 che sono qua. Era meglio gli anni 80, con poco si andava avanti. Adesso non si va più avanti. Però grazie a voi che c'è ancora questa fontina, che è un'eccellenza conosciuta in tutto il mondo. Grazie ancora, grazie. E poi gli spiego. Adesso io e mio marito, Miss Samuel, ha ceduto a mio figlio, Miss Luigi. Perciò adesso c'è mio figlio. I giovani vanno avanti. Per fortuna che ci sono a loro. Grazie, Lidia. Alla prossima. Grazie mille. Niente. Siamo con la gente, Mattia Colella. È bello anche vedere il corpo forestale valdostano in questi appuntamenti. Appuntamenti dove ci sono sia valigiani ma soprattutto turisti per far capire e soprattutto far rispettare la flora e la fauna delle Alpi. Eh sì, noi ci teniamo tantissimo come corpo forestale alla tutela dell'ambiente, diciamo a 360 gradi. Qua siamo in un contesto di alpeggio, quindi di presenza umana, antropica, però subito qualche metro dopo abbiamo la fauna, abbiamo la flora, abbiamo dei boschi e quindi ci teniamo a presentare al pubblico, che siano turisti, escursionisti, semplici curiosi, ci teniamo a presentare quelle che sono le particolarità e anche le dinamiche di questi luoghi che vanno preservati e conservati. Qual è la domanda diciamo più ricorrente che ti fanno? Ma beh, per quanto riguarda la fauna, che in genere è l'argomento che interessa di più, le domande vengono orientate quasi tutte o sull'aquila, che piace, o il lupo, ecco il lupo va per la maggiore di questi tempi, ma se no anche tutta la parte dei palchi sempre interessa molto le persone, camosci, stambecchi, è sempre un argomento che piace capire come si possono contare gli anni, come si possono riconoscere gli animali osservati nel loro ambiente naturale. Un messaggio che vorresti dare a tutti coloro che in questo periodo estivo vanno in montagna? Ma noi rischiamo di essere ripetitivi su questo, però anche qui l'ottica deve essere sempre quella di preservare l'ambiente e quindi cercare di essere meno impattanti possibili a livello di disturbo, anche chi magari organizza delle gite al crepuscolo, sempre rimanere lontano da quelle che sono le zone più sensibili per gli animali, per la presenza della fauna selvatica, rispetto della flora, rispetto degli altri e ovviamente i rifiuti da portare a valle.